Quarta giornata del campionato di Serie C Gold, girone B. La New Basket Agropoli passa contro Angri per 76-53. Si attesta al primo posto in classifica con 6 punti e viaggia verso Cercola sabato prossimo. Una sfida quella di ieri che la compagine di coach Lepre prende subito di petto e comanda fin dal primo secondo, chiudendo al suono della sirena finale con 23 punti di differenza rispetto all'avversario. Dopo la vittoria con il Rende di domenica scorsa nella contesa di ieri sera, i cilentani hanno confermato il momento positivo. Adesso poco tempo per rifiatare perché appunto sabato c'è già la gara contro Cercola in trasferta e l'ultima del girone di andata prima della sosta pasquale. Le parole di Franco Lepre, il coach di questo team giovanissimo, nei primi due quarti abbiamo preso il vantaggio che poi abbiamo amministrato e mantenuto fino al termine. Abbiamo fatto quello che volevamo fare, essendo molto intensi fin dall'inizio. Avevo chiesto un approccio diverso ai miei ragazzi per non essere costretti a rincorrere come è successo contro il Rende e così è stato e per questo motivo sono soddisfatto. Tutto il roster in rotazione. Ho dato la possibilità a tutti di entrare in campo e ognuno ha fatto la propria parte, ma il primo posto in classifica non muta gli obiettivi. Il nostro scopo è quello della crescita. Più partite vinciamo meglio è. Siamo abbastanza freschi nonostante gli impegni ravvicinati, segno che il lavoro di preparazione fatto sta dando i suoi frutti. Ne approfitto per ringraziare tutto lo staff, sia il preparatore atletico Antonio Molinaro che il mio secondo Fabrizio Rosolino per l'importante lavoro certosino che fa di scouting in occasione di ogni preparazione di gara. Infine il fisioterapista Domenico Nese. mi stanno dando una grande mano, per me sono molto importanti.